Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, la location è quella solita, l'ospite no, ma non per questo meno importante Siamo qua con Maurizio Merluzzo, ciao Ci saranno stati degli applausi in sottofondo visto che il pubblico è sempre più scremato Come il latte Siamo qua in una delle serie più becer di Youtube Ma io, è vero, cioè è proprio, però mi piace perché è divertente O diciamo, non la presunzione, l'orgoglio di poter dire che sono stato forse il primo a importarlo all'America La merda, io importo la merda Perché tutti criticano, però poi se lo vanno a vedere Perché poi mi piace, eh sì Quindi che cazzo criticate Perché a me piace poi quando vengo menzionato, no, che mi ci butti in mezzo Ah Oppure butti in mezzo ambra Eh vabbè, diciamo che il parterre di gente che devo scegliere deve essere il parterre di un certo livello Ti sto facendo dei complimenti Sì sì E la mano sulla gamba non è per niente casuale Partiamo dalla prima ragazza Vai La nostra Riae Cosa c'è più di sì? Fai finta di pensarci un po' Allora, analizza, analizza Riae, eh, Riae, sai È una ragazza molto spigliata Facciamo che notiamo tutte le cose che si notano dopo Spigliata Spigliata Alla ma è sarda Sarda Che c'è un punto in più Le isolane Capelli blu Capelli blu Beh Bellissimo Tanti tatuaggi E poi devo dire una cosa Eh Ma non è per questo motivo che darò la risposta che darò Ah ah Lei Ha detto lo bombo E mi sembra giusto Ma non necessariamente conseguenziale Che la bombo Dichiariamoci, scusami Che me la bombo Allora, Ria Maurizio Te lo butterebbe Volentieri nel culo E poi tanto lo bimpiamo Cambieremo in corso Quindi Diciamo Io qui in questo momento Sono in veste di Stranamore Dato quello che ha detto lei nel video Sì Ria Ti bombo Perfetto È questo che mi ha sempre fregato Io rispetto a Maurizio Mi manca la voce Sì ma non è che ti ci impegni Quando non fai la tua Fai Perché pensavo che Ciccio Acchiaffasse tanto Può diventare un Tinder di YouTube Questo porno Eh voglio la percentuale Per ogni coppia che faccio scopatis Allora Per ogni scopatis Mi fai fare Da una botta pure a te Ci penserò Andiamo al secondo Qua un po' Per la legge del contrapasso Sabacuno Maiku Perché no? Allora Io a Michele vi voglio bene Lo conosco Mi ci diverto molto insieme Ma preferisco rimanere solo amici Ok Allora Lui lo passiamo Lo passiamo Però se dovesse capitare Un altro maschietto Eh Al di là che tu sia Orientato sessualmente Verso me Magari capiamo Se ti potrebbe interessare Una conoscenza più approfondita Proviamo Anche perché tu comunque Ogni volta che io Mando una foto sul gruppo Dei gentleman Mi dici che mi daresti due botte Quindi Io Non ci sono prove A Cancella subito La cazza di Va bene Quindi il buon Michele Del deserto Lo lasciamo nel deserto Mi piace parlarci con Michele Michele lo lasciamo nel deserto E su questo Non ci piove Complimenti Andiamo avanti Mi sono confrontato con Paolo E abbiamo deciso di mettere Anche per metterti Un po' in difficoltà Anche se non credo Che lo metterà in difficoltà Qualcuno che conosci Proprio di persona Andiamo Ad una nostra Conoscenza in comune Sì Aspetta Merisiel Merisiel È una bellissima ragazza Sì Esatto Giriamoci un po' Sì Abbiamo fatto Entrambi abbiamo fatto Dei video insieme Con Merisiel Spigliatissima E diciamo Non sto zoomando Niente in particolare Insomma una ragazza simpatica Divertente Capelli rossi Capelli rossi Lo so io dico No no c'è ragione Perché blu rosso Il mio sogno è trovare Mi Power Rangers Figurati quindi E tra l'altro da noi si dice Pilur rosso Ficcati lusso Quindi capello rosso Vabbè Facciamo che lo traduciamo Diciamo che Valutando tutte queste Varie caratteristiche Senza dimenticarne Nessuna Sì La bombo Un saluto Anche a Merisi Anche qui Voglio la percentuale Se dovesse nascere qualcosa Non nascere proprio Non nascere niente Di rossa in rossa Vai Hi Morta Beh Immorta La conosco anche lei Molto bene Ci siamo visti Saluta Antonella Ciao Anto Diverse volte Molte volte La conosco da tanti anni Da quando faceva cosplay Più attivamente Ah è vero 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 Adesso comunque Pubblica sempre cosplay Fa sempre cosplay Ma lo fa O per determinati eventi specifici O sul suo profilo di Instagram Ma prima la incontravo anche Alle fiere del fumetto Ai comics Anche qui Detto questo Anche qui rossa di capelli Sì Bel viso Allenata Bel fisico Sì A bombo Ma la bomberesti Al naturale O travestita Travestita da cosa Ti piacerebbe maggiormente Bombarla Perché travestita da qualcosa Non lo so Non ce l'hai questa perversione Tu essendo appassionato Ma la mia ragazza è una cosplayer Cioè già esaudisco Quindi lei La diciamo Al naturale Nature Nature Di avanti Aspetto Mi ricordo Non come Si chiama Di avanti Con un personaggio Noto Siciliano Ho chiesto Per la puntata precedente Una cerbottana Con del sedativo E anche non è arrivato Un personaggio Noto Specialmente Al mondo Del cosplaying Gli anime Cosplaying Tsunami 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 è quando Se tu fossi un personaggio Tu intanto chi vorresti essere Come personaggio di Naruto Che so che ti piace tanto Ti racconto una storia Sin da quando ero bambino Quando io mi immaginavo Di far parte Dei mondi fantastici Che vedevo in televisione O leggevo nei fumetti Io non ero mai Un personaggio Ero sempre Maurizio All'interno Di quel mondo Non ero mai Ah io sono Goku Ah io sono il Power Ranger No Nella mio immaginario Sono sempre stato me stesso Che interagiva In quel mondo E con quei personaggi Cioè fin da piccolo Aveva un ego Talmente grande Da mettersi al di sopra Di Goku No 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 Da parte Ah da parte Ok Di fianco Di fianco Sarei stato il ninja Che Che Sarei stato Giusto E quale sarebbe il turno Da battaglia Mentre ti fai il tsunami Urlerei tsunami Non lo so Andiamo avanti Torniamo nel mondo vero Perché vi dico una piccola cosa Tutti che appassioniamo Non esistono queste cose È anche l'ora di crescere Finchia qua Hating proprio Da tutto spiare proprio Andiamo avanti E torniamo anche Ad una Non so se tu la conosci Di persona Violet Ah Violet Saluto a Violet Che conosciamo Violet Che conosciamo Sono stato anche Su ospite Un paio di mesi fa Molto simpatica Molto carina Mi sono trovato bene In live con lei Capelli neri E quindi Potrebbe essere un punto in meno No 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 Mancava Abbiamo fatto blu rose Quindi serve Quindi giustamente La bombiamo per questo Ok perfetto Però scusami Tu comunque stai scegliendo Dei fior fior di signorine Mi sembra difficile anche Io sono uno che cede Alla tentazione della carne Hai ragione Ma aspetta Perché Diciamo Il video è ancora lungo Comunque volevo Volevo farmi notare Che è il primo episodio Della bombi da passi Che diciamo Si sta un po' elevando Dal livello becero Che di solito Andiamo avanti Lui ha chiesto Diciamo Di essere messo Un po' in difficoltà Torniamo un po' indietro Con gli anni Ad una delle icone Secondo me Proprio della tua Era Era Ma io sono merluzzo Quindi l'antico cetaceo Bravo Che è una balena Passiamo a Carmen Russo Mazza Carmen Russo Argomenta sempre Sono sempre Allora Hai capelli biondi E ci manca E ci manca Allora Carmen Russo è una Bravissima ballerina È sempre stata Una grandissima ballerina E io Ho una certa Debolezza Per la donna Che sa ballare La donna che sa ballare Mi fa veramente Impazzire Non lo sapevamo questo Forse ancora Poi insomma Ma pure adesso Cioè nel senso Si Confermo Confermo Adesso direi Si Assolutamente Anzi Carmen Russo Se vuoi venire A fare un video Con noi Dove ci insegni A ballare Noi siamo disposti Sì Andiamo avanti Con qualcosa Di inaspettato Inaspettato Ed ora qualcosa Di completamente diverso La mia ragazza Allora Io ho una sorta Di regola morale Chiamiamola così Attenzione Ok Sì La mia regola Regola morale Diffico dire regola morale Praticamente Assessua Tutte le ragazze Che stanno con Miei amici Ok Cioè se tu adesso Mi fai passare Cherry Anche se sei una bellissima ragazza Anche lei Io ti dico di no Ma proprio perché Non riuscirei fisicamente Avete capito Sai quanti per esempio Mi scrivono Perché comunque Tu sai che Aura La sorella di Amber La mia ragazza È una bellissima ragazza Certo sì La conosco bene Ma per me è È una sorella Ovviamente Non esiste neanche il pensiero Perfetto ragazzi Questi sono i veri codici D'onore Per esempio Se Thomas Un giorno Spero di no Per chiunque Sia donna Dovesse fidanzarsi Sarebbe la stessa cosa Quindi Thomas Tranquillo Puoi metterti Con chiunque tu voglia Sei al sicuro Proseguiamo ragazzi Dopo aver scoperto Che Maurizio È non solo Un brav'uomo Ma anche un brav'uomo Andiamo avanti Con Aspetta qua mi serve Paolo Come chi so Stacchiamo questa Ma è un altro pupazzo No Aspetta Vediamo se la riconosci Da solo Senza dirti chi è Sono sincero Così non la riconosco È una tua collega Emanuela Pacotto Allora Emanuela È Una donna Stupenda Bellissima Con una voce Straordinaria Che io conosco Da circa Vent'anni Eh quindi qua ti mette un po' in difficoltà Conosco da quasi vent'anni Emanuela Lei è stata una delle prime persone A cui ho detto Che io volevo fare il doppiatore Oddio ho detto Che io volevo fare l'amore con lei Ok E mi ha sempre sostenuto Mi ha sempre supportato In questa cosa Ogni volta che la incontravo Quando andavo a fare i provini Per iniziare ad entrare in questo mondo Era sempre molto incoraggiante Nei miei confronti Quindi alla luce di tutto ciò Visto che c'è questo rapporto Ormai ventennale Che è stata una di quelle Che ti ha instradato Dovresti ricambiare No? Il favore No 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 Perché le voglio troppo bene Emanuela Tra noi ci può essere solamente amicizia Per me il sesso non è emotivo Per me amore e sesso Sono due cose diverse Ok Poi ovviamente C'è una componente emotiva All'interno del rapporto Ma se alla base C'è una fortissima Componente emotiva Dettata dall'amicizia Dal buon rapporto E da tante altre cose Ho difficoltà A trasformarlo in sesso Traduco per tutti i miei fan Che diciamo Non riescono a seguire Dei periodi più lunghi Di 6 Esatto Se siete amici Non ve lo buttare Ok Perfetto Dipende che tipo di amicizia c'è Però forse La punta ve la mette Che comunque credimi È già impegnativo Torniamo ad una delle ospiti Della prima stagione Di Puoi Mangiarlo Polina Valinoshkaya Non la conoscevo Attenzione Non me l'aspettavo Giuro Giuro Guarda tu segui solo Fiusa e Instagram Sì Io seguo una pagina di fitness Posso? Certo assolutamente Lei si chiama? Polina Malinoshkaya Polina Malinoshkaya Sì Allora Cabelli blu Cabelli rossi Cabelli neri Manca la bionda Manca la bionda E che bionda Ah Carmen Russo Però Carmen Russo però era È come se fosse Pover Ranger C'ha i colpi di sole C'è i colpi di sole Tipo le me Anche qui I colpi Non sarebbero di sole Ma Polina Parla italiano Non lo so Non la seguire Parla italiano Però anche Mezzo russo Quindi C'ha l'accento Delino Dimmi Paolo No c'è un attimo Paolo Che se era un attimino Appena io ho detto che parlava mezzo russo Mi aveva venuto un po' di Beh anche Carmen Dai non puoi perdere tre ore Lo sto tirando per le lunghe Ma ovviamente sì Ok Perfetto Un saluto anche a Polina Che non perdrà mai Questo video Per fortuna Cambiamo un po' ambito Vai sparami un altro cazzo animato Quasi Passiamo Al tuo alter ego Beh minchia Zachary Levi Ecco per questo ti dicevo Anche se ti dovessero ricapitare dei maschietti Non chiuderti tutte le porte E non solo Non chiuderti Tu non chiuderti Allora Che ti vedo in difficoltà qui Beh Per l'uomo Ci ho anche fatto un video insieme io con lui Hai un rapporto già più intimo con lui Io l'ho conosciuto Abbiamo fatto un video insieme Altissimo Gli hai dato la voce Cos'altro gli vuoi dare L'altra voce Gli devo dare pure il cu Perché lo bombi È il rapporto completo Sì però magari Allora facciamo che Puoi anche esprimere una simpatia Un po' più Diciamo Confidenziale Un po' di petting lo faresti con lui Andiamoci così dai Ti rispondo Però Voglio una risposta anche da te Alla domanda che ti farò Pezzo di merda Esiste un uomo Al quale diresti di sì? Allora Proprio un rapporto completo No Esatto Voglio trovare l'empatia giusta Oddio Mi sta facendo un po' schifo Pensarci pure Perché ce l'ho uno Io un po' di petting Con Bruno Mars Lo farei Allora Voi avete Voi avete Chissà vostri Tu sei un giappominchia Tu non so che problemi hai Mentre Bruno canta Quale canzone? When I was your man Un po' malinconica Che tipo io piango Mentre lo tocco Ah facciamo così Tu dici sì a Bruno Mars Io dico sì a Zachary Levi Con il tuo stesso sì Nei confronti di Bruno Mars Va bene Però contemporaneamente Mentre lui canta Ci tocchiamo Noi doppiamo Noi dobbiamo Noi dobbiamo Noi dobbiamo Noi dobbiamo Qua me lo puoi dare anche velocemente Diciamo Visto che abbiamo fatto tutto questo preambolo Un altro ovviamente Minchia Tu mi stai portando A un livello Empatico Con queste persone Perché io ci ho vissuto Nella testa Di queste persone Cioè per me è una sorta di Incesto Non l'avevo vista sotto questo punto di vista Potrebbe essere Interessato Perché io a un certo punto Mi diventano quasi Degli amici Dei fratelli E ti faccio una domanda Per esempio Nel caso di Travis Fimmel L'ho doppiato per quattro stagioni Si crea quella sorta di rapporto Mentale Che è Simbiotico Simbiotico Minchia È la Marvel Mi sono preparato quando tu Che è una sorta di Come tiziere morti da solo Citando una famosa frase Di Travis Fimmel Di Vikings Ti rotoleresti nel fango Quando i porcellini Torneranno a cantare Ma che cazzo stai Quanto grugneranno i porcellini Grugneresti Sul cazzo Stagli Fimmel Sì ma Con la stessa accezione Di Zachary Levine Ma per me è un po' Autoerotismo Nel senso Ok ok Andiamo avanti Questa suggerita a Paolo Quindi me e di socio Non sapevo nemmeno Chi cazzo fosse Cioè Magari lo so nemmeno io Questa è l'attrice Che ha fatto la suora Bravo Allora Paolo sa Che io ho una certa Predilizione Per i nasi Importanti I nasi particolari E come mai Però qui Cioè Qua cazzo Cioè A me il viso piace Perché a me piacciono Questi nasi Prorompenti Ma non è questione Semplicemente di prorompenza La dimensione È proprio la particolarità Del naso Che a me piace Però lei ormai ti ricorda Denan Quindi Torniamo a una famosissima Questo mi manca Ho paura di chiedere Cosa sia Non hanno mai leccato Il buco del cu Adesso So come Si dice Leccare il buco del cu In termine tecnico Anche lui ha un naso Molto prorompenza Guarda Con tutto il bene Che voglio dal Varo Vitale Rimaniamo amici 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 come prima Va bene Va bene E concludiamo Citando Non qualcosa di così Vecchio Ma una frase Di pochi minuti fa Maurizio Berluzzo Immorderebbe Se stesso L'hai detto tu poco fa L'hai detto tu poco fa Ho detto sarebbe un po' come Allora Io Sono sempre stato Dell'idea Che se avessi Me stesso davanti O andremmo Super d'accordo O ci odieremmo A morte Secondo me Vi odiereste Perché Andreste troppo In contrasto Oppure si creerebbe Una sinergia tale Minchia Ti immagini Due Maurizio Berluzzo Cioè già uno rompe il c***o Pensa due L'altro ti rompe il c***o È un po' particolare Come scelta Però qui stiamo parlando Di sesso Sì Ok Passo Me l'ha detto così Convinto Che adesso devo per forza Chiedergli il perché Perché Ora Facete un casino Non mi piaccio Attenzione Sessualmente non mi attraggo Ci sono uomini Che attraggo di più Di te stesso Sì Ok Legittimo Finiscono qua I nostri candidati Alla Bombi O La Passi Maurizio è stato molto Molto preciso Sembrano giusti Cioè non è che Ah questa La botta Ecco lui Finora è stato così Ti spiego Perché ero abituato Finora a farlo con Giampitec Oppa cosa Cosa direbbe Se volete Un altro Episodio Di La Bombi La Passi Con Maurizio Non ci sarà Quindi Non cagate In contemporanea Sul canale di Maurizio Probabilmente è uscito Un video delirante Completamente Lo trovate in descrizione Lasciate un mi piace Grazie Maurizio Mi piace E ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video